Siamo profondamente stupiti dalla scelta del Partito Democratico di presentare un esposto a Ballarò per l'assenza ieri di alcuni esponenti alla nota trasmissione televisiva. Vorremmo ricordare a chi si lamenta oggi che da 90 giorni, dal primo marzo, sono stati 21 gli esponenti del Partito Democratico che hanno partecipato a Ballarò, 7 il Movimento 5 Stelle, 5 la Lega, addirittura 4 scelta civica e nessuno di sinistra italiana. Per favore, caro Partito Democratico, lascia da parte gli esposti perché gli esposti li presenteremo noi.